E venite via con me in questo viaggio che abbiamo iniziato in un modo un po' anomalo, ma continuiamo parlando. Poco prima ho detto, poco fa, ho detto che mi fanno molto piacere quelle manifestazioni, quegli eventi che riescono a far vedere la scienza, a portarla a contatto con il pubblico. E di questo parleremo in questo servizio, in cui parleremo della performance itinerante Sissa hosting all'interno della settima edizione di Invisible Cities. Ne parliamo con Martina Di Leva del collettivo Lunazione, cui si deve appunto questa iniziativa. Buongiorno. Buongiorno, ciao Daniela, buongiorno a tutti. Buongiorno. In studio con me abbiamo parlato poco fa di Master in comunicazione della Sissa con un ex allievo del Master in comunicazione della Sissa ed è con noi il direttore del Master in comunicazione della scienza, Nico Pitrelli. Buongiorno. Buongiorno. Responsabile anche della comunicazione della Sissa. Allora, io chiedo a Martina Di Leva di introdurci in Invisible Cities. Che cos'è? Festival urbano multimediale, si dice. Quindi tradotto in parole povere e come si inserisce la Sissa in questo evento. Sì, il festival organizzato dall'Associazione 4704 è un festival performativo urbano che si fa appunto nelle città visibili. Il titolo Invisible Cities ha una duplice interpretazione. Invisible, quindi all'interno delle città, infatti vengono portate le performance urbane negli spazi della città, le piazze, i giardini, le strade, gli spazi non convenzionali ed è anche un modo per riscoprire quelle città invisibili, quindi appunto Invisible Cities, attraverso l'uso della realtà aumentata. Quindi per questo un festival multimediale e anche Sissa Hosting fa ricorso all'elemento della multimedialità. Infatti la performance è in cuffia, è una performance audio guidata, attraverso le voci che abbiamo raccolto in Sissa durante il mese di luglio. Com'è stato il vostro incontro della Sissa e com'è stato questo incontro fa arte e scienza? È stato speciale. Faccio una piccola premessa rispetto al progetto. Hosting viene dal termine host che è colui che ospita. L'ospite in italiano significa sia colui che ospita che colui che viene ospitato. In inglese invece abbiamo la differenza, host, colui che ospita. Questa comunità che ci ha accolto è incredibile come si venga a creare anche all'interno di una scuola una piccola comunità, proprio come un piccolo paese. La dinamica è molto particolare perché gli abitanti di questa comunità sono degli scienziati che vengono da tutto il mondo, che hanno le loro forze ma anche le loro debolezze. Quindi è stato soprattutto accogliente da parte loro, che ci hanno visto girare per i vari piani e si sono aperti tutti con noi durante le interviste. Abbiamo rotto un po' le scatole, abbiamo chiesto tante cose a tutti coloro che fanno parte di questa comunità, dagli scienziati ai ricercatori, al personale amministrativo, ai cuochi, ai camerieri del bar. Abbiamo incontrato davvero tutte le personalità di questo posto. Voci dell'assista e quella di Nico Pitrelli è appunto una di queste voci. Prima di chiedergli di che cosa ha parlato nel suo contributo per Sissa Austin vorrei chiedergli se si ricorda come è stato il suo incontro con l'assista. Lui è fisico, questo lo ricordo. Quindi uomo di scienza è... Sì, ormai in prescrizione forse, nel senso che la mia, fra virgolette, comprensa fisica risale ormai più da vent'anni fa, quando in realtà, mentre facevo un dottorato in Germania in fisica, iniziai a interessarmi del giornalismo scientifico e allora conobi la Sissa perché già allora c'era la scuola che adesso, il master che adesso ha l'onore di dirigere. Per cui il contatto è stato, ha coinciso con una decisione che riguardava un cambiamento professionale, ma non solo perché poi è diventato un cambiamento di vita. Quindi un contatto significativo direi così. Allora, il contributo di Nico Pitrelli a Sissa Austin, quali aspetti della scienza e della vita della Sissa ha voluto comunicare ai visitatori che molte volte poco sanno di quello che succede dietro quelle finestre e in quel bellissimo giardino? Sì, dove c'è anche un parco molto bello. L'idea che a me sembrava interessante e che è difficile da trasferire è la complessità che c'è dietro la costruzione di un sapere di alto livello come quello che si produce dal sistema in altri ambienti. C'è una materialità che ha a che vedere con le stanze, i luoghi, le infrastrutture, le biblioteche, i punti d'incontro, che sono il risultato di traiettorie non casuali, alcune volte magari non chiare, che portano però a definire qual è lo spazio, diciamo così inteso in senso lato, migliore per permettere la costruzione del sapere. Questo mi sembra un aspetto molto interessante, forse difficile da trasferire, però non è scontato. C'è un libro di qualche anno fa che si chiamava La Stanza Intelligente di uno di questi studiosi americani che si occupa appunto proprio di teorie della conoscenza, quindi una roba abbastanza filosofica. Comunque il titolo era in realtà molto più diretto. Diceva molto spesso che la cosa più intelligente che c'è all'interno di una stanza non sono né l'oratore né coloro che ascoltano, ma è la stanza stessa. Ecco, un pochino era questa l'idea, cioè che per produrre sapere qualificato di alto livello abbiamo bisogno di stanze particolari. La sissa, come tanti altri luoghi, altro canto è una stanza particolare. Quindi questo è un primo aspetto. L'altro aspetto che forse è emerso nell'intervista che volevo trasferire e che nella mia esperienza ormai ventennale di contatto con scienziati e scienziati mi sembrava importante un tratto che io ho sempre trovato a qualunque livello, sia a livello di studenti, sia a livello di professori, che è un tratto anche psicologico, che è quello di una certa irrequietezza positiva. Cioè è una sorta di persone che sono sempre mosse da una sorta di motore interno per una conoscenza che poi al dunque ha a che fare con l'ignuto, con l'incertezza. Quindi questa tensione, questa inquietudine, non so appunto quanto positivo, ma non è importante giudicarla. E un altro aspetto che però mi pareva importante da trasferire, cioè alla sissa, come in altri ambienti simili, si ha a che vedere con persone magari anche, per certi aspetti, molto ordinarie da altri punti di vista, come dire, non è che ci sono, o meglio, distribuite nello spettro abbastanza usuale dei comportamenti più diversi. Però un tratto invece che mi sembrava unirli è questo motore interno, questa consapevolezza che in fondo è poi la radice dell'origine, se vogliamo, dell'impresa scientifica, è che c'è qualcosa sempre di nuovo e di non finito, di infinito, a cui l'uomo per qualche motivo imprescindibile ha bisogno di rapportarsi. Ecco, lì alla sissa si trovano persone di questo tipo qui. Quello che io penso sempre quando qualche ricercatore espone ai nostri microfoni il risultato di una sua ricerca è che in realtà quel risultato è un punto di partenza per continuare un cammino verso il quale i ricercatori continuano ad avere curiosità, perché una volta capita una cosa forse c'è un altro mattoncino che si può aggiungere, quindi la curiosità è uno degli elementi che fa dello scienziato ricercatore, uno scienziato ricercatore credo. Una curiosità inquieta, sì, mai senza fine, credo che l'aggettivo inquieto sia importante da sottolineare. Un'inquietudine positiva. Chissà. Speriamo, noi speriamo. Martina Di Leva, Sissa Austin si terrà il 6 di settembre. Ci dice come si fa a partecipare e com'è strutturato? Sì, bisogna prenotare ovviamente attraverso i siti di Invisible Cities. Chiedo scusa, sento il ritorno della mia voce? Noi invece se la sentiamo molto bene. Ok. Grazie. Quindi attraverso i vari canali social sia di Arts che del sito Festival Invisible Cities è possibile prenotare. Mi raccomando perché ovviamente i posti sono limitati e si userà il percorso esterno del bellissimo giardino e attraverso le cuffie e le voci delle persone che abbiamo intervistato scopriremo qual è il cuore pulsante della Sissa. Dunque, la Sissa è indubbiamente una sorta di città nella città che non ha tantissimi punti di contatto. In fondo, tante volte si ritrova una certa distanza fra chi lavora nella scienza e la città che ospita chi lavora nella scienza. Ricordo che nell'89 quando intervistai Abdus Salam, premio Nobel per la fisica e primo direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica, disse che era molto soddisfatto della sede di Trieste perché si poteva lavorare tranquilli senza distrazioni. Non so se questo implicasse anche il fatto che la città era un filino noiosa. Non lo so, ma questa è una mia illazione. Però appunto tante volte si scoprono delle carenze di permeabilità fra le due cose. Lei ha avuto una sensazione di isolamento oppure di intreccio con la vita cittadina? In realtà anche dove è dislocata la sissa, questo porta a una certa distanza. Lo ricordiamo, la sissa in questo momento ha la propria sede in quello che è stato il sanatorio triestino ed era noto questo sanatorio perché aveva un'eccezionale esposizione al sole perché ovviamente le cure elioterapiche erano fondamentali. Quindi domina dall'alto la città di Trieste ed è visibile da molte angolazioni. Devo dire che l'area buona c'è ancora. Però va raggiunta questa sissa con un pullman particolare, la strada è particolare se il pullman è pieno di ragazzi, c'è una strada stretta, bisogna fare in modo che passi prima un pullman per un altro. Quindi anche il viaggio per raggiungerla questa sissa ricorda un po' il viaggio di Ulisse, arduo, ecco arriviamoci a questa sissa. E diciamo che noi da artisti indagatori siamo andati anche a Trieste a chiedere ai triestini, ma voi che cosa sapete della sissa? Sapete dov'è? Che cos'è? Qualcuno era informato, però molti erano incuriositi, dicevano mi piacerebbe tanto entrarci, non ci sono mai entrata. Penso che non si possa entrare e invece c'è quest'occasione, il 6 settembre io invito tutti i triestini a venire. Ecco, tra l'altro appunto Nico Pitrelli ricordavamo che la sissa è un bellissimo giardino, che non è soltanto un giardino, perché comunque ha delle unghiate di scienza qua e là. Devo dire due parole sul giardino di questa città sissa? Intendi i cinghiali nel parco? Quelli magari sono un'aggiunta in più. No, sì sì, no, c'è un... in realtà c'è proprio un vero e proprio bosco che occupa lo spazio di tutto il comprensorio della sissa dove si può passeggiare. Da qualche anno è vero che c'è un problema di rapporto con i cinghiali, ce ne sono tanti. Che condividete con molti. Che condividiamo con molti e che un po' sul giardino periodicamente lo sconquassano. Però le installazioni che ricordano alcune cose della scienza, quelle credo che siano belle robuste. Quelle resistono anche ai cinghiali, sì. Ci sono alcune installazioni che richiamano appunto alcune... sono degli exhibit tipici in cui si mostrano alcuni principi di base di funzionamento di fisica soprattutto, che hanno a capire con il movimento, lo spazio, le onde, che i visitatori anche portando i bambini e le bambine possono... possono godersi sia lo spazio quando ci sono le belle giornate e sia così divertirsi un po' con questi exhibit per fare la passeggiata. È un posto interessante da questo punto di vista, sì. Cioè in realtà non corrisponde, non so se la regista è d'accordo, però non corrisponde a molti stereotipi che magari uno si porta appresso quando si immagina un centro di ricerca. Molto, molto cupo, pieno di strane cose, di persone serissime. Sì, no, infatti. No, io direi che l'ambiente è sostanzialmente informale e poi c'è un paesaggio e un... è molto open, c'è il bosco, si vede il mare, insomma è un po'... Se posso condividere un'esperienza, un altro elemento peculiare sono queste lavagne che si trovano nel giardino e che i ragazzi riempiono continuamente durante le loro pause pranzo. Hanno delle illuminazioni, quindi scrivono delle formule, le cancellano. Questo è sicuramente peculiare dell'assista e a noi ci ha molto affascinato. Tra l'altro in questa città, oltre a essere così particolare per il tipo di popolazione, per l'attività della popolazione, si parla anche in molti casi una lingua diversa. Già Trieste è un'isola in cui si parla molto spesso il dialetto. La lingua della scienza è l'inglese, quindi è una città, la sissa anche da questo punto di vista con connotazioni particolari diverse. È una piccola babele, però è anche una grande famiglia. Quello che abbiamo raccolto è che tutti i ragazzi che vengono da mondi diversi riescono a ricreare il proprio habitat in un nuovo mondo, anche provando a imparare la lingua della città, quindi provare a parlare italiano. Molti ragazzi ci raccontano di come poi la vita continua in fuori fissa. Spesso si trovano le case insieme, vanno a vivere insieme, escono insieme. È proprio una piccola grande famiglia. Bene, una piccola grande famiglia che però appunto trova delle occasioni possibili per essere ospitali nei confronti dei visitatori e del resto della città che quindi la ospita. quindi ricordiamo il 6 di settembre 16.30 18.19.15 sissa hosting all'interno di Invisible Cities. Per avere maggiori informazioni il sito è invisiblesities.eu. Io ringrazio Martina di Leva per essere stato con noi. Grazie a Nico Pitrelli per essere tornato a Radar. Grazie mille.